Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Deuter Guide da 34 più 8 litri Classico zaino d'alpinismo di casa Deuter, però con delle feature abbastanza interessanti Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Guide 34 Nel particolare qua troviamo la tecnologia Deuter Alpine Ovvero quella tecnologia Deuter che vende lo zaino molto snello, molto slanciato Per essere abbastanza sottile quando dobbiamo passare all'interno di passaggi belli stretti Nel particolare poi qui abbiamo anche la tecnologia Vario Flex di Deuter Che gli garantisce un'ottima stabilità anche a pieno carico Ma iniziando dalla traspirabilità c'è da dire che questo zaino è abbastanza nella norma Non eccelle sicuramente per la sua traspirabilità Ma quello dove eccelle come dicevo prima è la sua stabilità Vi assicuro che davvero a pieno carico anche con i 12 kg massimo Che vi consiglierei di portare con questo zaino Anche con corde piccozze davvero completamente cariche Questo zaino è molto molto stabile Passando alla fascia lombare Questa è removibile, la si può togliere veramente molto facilmente Nella parte di destra troviamo una piccola taschina Dove andare a riporre il telefono o qualche oggetto E nella parte di sinistra invece troviamo un anello portamateriale Dove andare a appendere qualche moschettone La chiusura anteriore è classica con una clip Lavora molto bene anche a pieno carico E appunto poi come vi dicevo prima 10-12 kg massimo ci porterei con questo zaino Sopra la vedo veramente difficile Però devo dire uno schierale comunque abbastanza sobrio Abbastanza nella norma Ma quella nella norma che alla fine convince sempre Per quanto riguarda gli spallacci Questi sono abbastanza morbidi Comunque non danno fastidio sulle spalle Fanno un ottimo lavoro anche a pieno carico Poi classico troviamo la chiusura pettorale Con il fischietto da andare a scaricare un po' di peso anche sul petto Passiamo poi alla parte posteriore di questo guide Iniziando dai lati Vi pronuncio che sono simmetrici Quindi ne vedremo solamente uno Cosa troviamo? Semplicemente due fibie Due fibie, una nella parte inferiore e una nella parte superiore Quella inferiore non è apribile Però comunque c'è abbastanza tessuto Per poterla allargare tanto Quella superiore invece è apribile Qui possiamo sicuramente portarci degli sci, delle ciaspole Delle corde, comunque degli oggetti molto lunghi Senza nessun problema Mancano in questo caso Ma è giustificabile perché è uno zaino d'alpinismo La possibilità di portare delle borracce Comunque una tasca esterna È assente ma appunto è uno zaino d'alpinismo Passando alla parte posteriore vera e propria Innanzitutto abbiamo un'apertura AJ Ovvero che è diciamo una mezzalura un po' tagliata Questo ci permette di poter andare a prendere gli oggetti anche nella parte inferiore Senza dover stare ad aprire completamente lo zaino Lo zaino poi ha la possibilità di poter portare o due bastoncini O un bastoncino e una piccozza Oppure due piccozze Nel particolare poi la chiusura superiore di portare il bastoncino piccozze È fatta con dei velcro molto interessanti Perché sicuramente si rompono meno Rispetto ai classici fibiette elastiche di altri modelli Inoltre qua sulla parte posteriore possiamo anche portare un casco con l'emmeltholder E l'emmeltholder è dato di serie con lo zaino Quindi quando lo acquisteremo avremo anche lui Per il resto è abbastanza scarno Molto minimal Nulla di troppo Il minimo indispensabile è proprio poter fare alpinismo La chiusura superiore invece è composta da due cordini Una che va a stringere la parte finale della sacca E che ne riduce un po' lo spazio nel caso in cui dovessimo utilizzarlo da mezzo vuoto E una invece proprio per andare a chiudere lo zaino Inoltre troviamo anche una fibbia fatta apposta per poter andare a portare la corda e fissarla Quindi sicuramente una dotazione bella completa Per quanto riguarda il cappuccio Questo ha una sola tasca nella parte esterna Comunque è bella capiente Devo dire ci sta dentro davvero tanti oggetti E il cappuccio è removibile Facilissimo andare a rimuoverlo Altrettanto facile andare a reinstallarlo Quindi diciamo che comunque il peso di questo zaino Che adesso andiamo a vedere Si può anche ridurre Per quanto riguarda il comparto acqua Abbiamo la possibilità di portare all'interno Una sacca idrica fino a 3 litri Non abbiamo la possibilità di portare borracce nella parte esterna Come vi dicevo E non c'è neanche le re-incoveri date in dotazione Perché appunto è uno zaino d'alpinismo Arrivando a parlare di materiali e peso Questo zaino pesa un chilo e duecento grammi Lo si può ridurre fino a novecento grammi Andando a togliere fascia lombare e cappuccio Quindi lo si può portare anche sotto il chilo E a livello di materiale è fatto con un nylon 420D Devo dire che io l'ho utilizzato abbastanza Per fare canali Per fare anche roba strusciandolo su rocce eccetera Devo dire che è perfetto Non ha nessun taglio Ha lavorato veramente molto bene Quindi sicuramente dal punto di vista dei materiali È un ottimo zaino Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Deuter Guide 34 più 8 litri Viene venduto la Deuter a 210 euro O là si trova sui 150 Vi consiglio di acquistarlo Sì Sì perché comunque mi ci sono trovato molto bene Non ho trovato dei grossi difetti È uno zaino alla fine molto minimal Ma che tende alla sostanza Quindi devo dire Sicuramente un'ottima feature Il materiale è fatto molto bene E poi se non vi dovesse abbastare i 34 litri C'è anche la versione da 44 più grossa Con le versioni da 30 e 24 litri più piccole Con tutte le rispettive versioni donna Quindi anche se aveste bisogno di necessità diverse Rispetto ai 34 litri Sicuramente c'è la vasta gamma di prodotti E detto ciò ragazzi Una speranza sia stato esaurante e esaustivo Anche per questo video Vi ringrazio per aver guardato E noi ci vediamo al prossimo Ciao Ciao Ciao